Musica 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 Cugliela molto nitida Musica ma io sono proprio... domani pomeriggio è il camminato ho bisogno di perdere qualche cosa e... di camminare vabbè comunque considera la nottata pure già sono andata meglio perchè non ho ancora meglio ho camminato questo posto e si segue però considera la nottata no torino 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 se vediamo torino no Grazie a tutti. Grazie a tutti.